le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di mercoledì 7 giugno ariete mantenere alta la concentrazione in questo periodo è difficile ma è necessario seguire con attenzione gli affari più importanti con il sole mercurio in gemelli avete solo voglia di divertirvi in amore dovete fare più attenzione alle parole rischiate di essere superficiali toro ancora una giornata un po difficile cercate di essere meno aggressivi con le persone vicine in famiglia può nascere qualche contrasto con le donne in amore iniziate finalmente ad ottenere quello che avete sempre desiderato fedeltà e passione gemelli l'amore è sempre ricco di avvenimenti avete una buona carica erotica ma attenzione perché rischiate di eccedere trascorrete più tempo con i vostri cari sul lavoro potete sperare in un incontro capace di aprirvi nuove ed interessanti prospettive cancro siete molto vitali pronti a prendere nuove iniziative l'entusiasmo provocato da questa luna in aspetto magnifico può permettervi di ottenere un successo attenti solo a non farvi troppe illusioni sul lavoro potrebbero approfittarsi della vostra ingenuità leone se avete qualche progetto da proporre una richiesta ad avanzare non temporeggiate mercurio facilita la comunicazione con gli altri in ambito professionale in amore vivrete una giornata tesa la luna e venere creano tensione nei rapporti di coppia vergine la fatica e lo stress che avete accumulato si fanno sentire avete bisogno di riposo rilassatevi con l'amore venere in un segno amico vi regala emozioni il lavoro nasconde qualche insidia di troppo sarà bene studiare attentamente le mosse da fare bilancia la vostra testa un po fra le nuvole non riuscite ad essere lucidi in amore siete impacciati rendetevi conto che una vita avventurosa non fa per voi sul lavoro invece è arrivato il momento di osare di abbandonare la routine per cercare qualcosa di nuovo scorpione alleanze indovinate possono spianarvi la strada verso il successo l'amore non vi dà esattamente quello che desiderate per questo spesso vi nervosite martin cancro comunque potrebbe regalarvi l'occasione di vivere un'avventura appassionale sagittario vi farete prendere dall'euforia liberando quella parte istintiva di voi che spesso è cattiva consigliera perché vi fa agire senza valutare attentamente le situazioni cercate di rimanere lucidi almeno sul lavoro visto che ci sono problemi da risolvere capricorno avete una luna bellissima per l'amore i sentimenti sono un po conflittuali ultimamente un giorno di tregua è necessario chiamate un amico in serata sul lavoro dovete solo pensare a consolidare i risultati ottenuti nell'ultimo mese acquario mattinato un po nervosa in famiglia ci sono sempre troppe discussioni siete spesso arrabbiati con il partner non perdete mai l'occasione per criticarlo molto meglio sul lavoro dove potete far valere la vostra originalità proponendo soluzioni nuove pesci in amore siete molto più sciolti e sotto questa luna non esiterete a mettere in mostra tutte le vostre qualità per sedurre una persona che vi interessa la passionalità non vi manca il fascino assicurato da una venere fantastica insomma siete irresistibili e coloroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna le stelle di azus le stelle di azus